ok un saluto a tutte a tutti intervengo qui a nome del centro sociale a scatasuna magari la mia storia a molti di voi è nota perché sono stata coimputata con Nicoletta per un processo direi anche marginale al movimento Notav e sono stata liberata di fatto da pochi mesi da un periodo di detenzione al carcere delle vallette e poi di lunghe restrizioni agli arresti domiciliari questa storia la mia storia insomma non è scollegata a quello che vi sto per dire perché quando circa una settimana fa eh la polizia ha bloccato Corso Regina e tutto un quartiere banchiglia per sequestrare al centro sociale l'impianto eh che fa musica la prima cosa a cui ho pensato è che volessero levarci la voce volessero isolarci volessero impedire di impedirci di eh continuare a fare quell'attività politica pubblica di socialità che è stata fatta negli ultimi decenni e ho trovato una corrispondenza molto forte a quello anche che raccontava prima Nicoletta al tentativo del potere giudiziario in questi anni sempre più evidente di attaccare e isolare i singoli militanti dei movimenti coloro che si impegnano quotidianamente che crescono all'interno delle lotte quindi sì castigarli e punirli ma anche isolarli e renderli impossibile di comunicare con l'esterno e con e con gli altri ho pensato che fosse un po' la stessa la stessa cosa ho anche pensato che alla fine questo potere è davvero un gigante dai piedi d'argilla eh perché se teme la parola teme le iniziative teme la socialità e teme le relazioni allora probabilmente anche più consapevole di quanto pensiamo delle brutture e eh del dell'ingiustizia che questo sistema continua a perpetuare con la sulla terra sui territori sull'ambiente ma anche sulle vite di tanti e tanti di chi è discriminato di chi sta ai margini di chi può essere visto come come diverso in questi giorni sedici di noi sono impegnati al palazzo di giustizia con un processo molto difficile eh inizialmente eravamo stati accusati di associazione sovversiva perché noi una delle tante anime di cui parlava prima Nicoletta del movimento Notav da decenni siamo impegnati in valle io sono cresciuta in Val di Susa e l'avevo scelta anche come mia casa ecco prima della della detenzione siamo stati accusati con le nostre azioni di praticare un'attività eversiva perché vogliamo impedire la realizzazione del TAV e quindi un'opera voluta dallo Stato a più livelli con delle iniziative di protesta più o meno vivaci più o meno efficaci questa accusa è stata cambiata in associazione a delinquere ma di fatto siamo siamo ancora lì e solo pochi giorni fa eh la parte civile che rappresenta il Ministero degli Interni e il Consiglio dei Ministri ci ha chiesto eh circa otto milioni di euro sia la cifra spesa da loro per pagare i panini le trasferte l'indennità alle forze dell'ordine impegate dal duemila e undici al duemila e ventuno in Val di Susa per le attività eh di ordine pubblico fuorisede perché la Val di Susa è fuorisede quindi la cifra ancora aumentata senza contare tutti i reparti che arrivano eh da fuori che devono essere insomma mandati negli alberghi i panini le allora questa è una storia che purtroppo anni fa ci dicevamo anche anche in Vale no oggi iniziano con noi domani toccherà anche ad altri a me sembra che la storia che ha raccontato Simone se non erro ma anche tante altre storie che si danno in giro per questo paese non solo per tutta l'Europa eh tutta una serie di discriminazioni che comunque sono sempre mh più evidenti ci dicono che forse quel giorno potrebbe capitare a chiunque non è più così più lontano e allora io mi chiedo insomma quale sia ed è difficile eh avere una risposta adesso ma io credo sia utile momenti come questo ragionare insieme quale possa essere la strada migliore da percorrere ci siamo detti e l'abbiamo imparato all'interno del movimento notave che sono eh e la relazione con le altre persone la capacità di stare insieme di costruire esperienze quella che ti dà la forza poi no di lottare anche per dei cambiamenti importanti eh oggi io credo sia un po' più difficile eh rispetto a ieri e penso che insomma tutti dobbiamo fare un po' dovremmo fare sempre più uno sforzo ecco di ritrovarci e di e di confrontarci perché io temo insomma che questo governo non ci porterà eh grosse gioie e grosse soddisfazioni purtroppo nel futuro eh subiremo anche delle delle drammatiche conseguenze del cambiamento climatico e degli assetti di questa società che andranno sempre più a a a cambiare a scapito dei più poveri a scapito di chi sempre pagano le crisi ai momenti di eh di emergenza e quindi come diceva anche eh il compagno dell'ampi effettivamente eh differenze sì possono essercene nel nelle pratiche magari nelle nelle letture ma credo che eh ciò che ci unisce ciò che ci deve unire soprattutto in futuro deve essere il coraggio eh di denunciare quello che accade e insieme organizzarci e trovare la voce per farci sentire ognuno a proprio modo ognuno con i suoi strumenti ognuno con i suoi canali ma insomma ci vorrà sempre più coraggio e più forza no insomma come centro sociale a Scatasuna ci stiamo provando ecco resistere a questa fase eh un po' un po' complicata e credo che in un modo o nell'altro ce la faremo come Movimento Notava anche ormai resistiamo già già da un po' ma eh una battaglia che a livello sempre più sistemico e sempre più globale deve essere portata avanti perché non basta oramai eh un solo pezzo e tutto quello che ci circonda insomma deve deve cambiare e cambiare radicalmente per vederci garantito un futuro dignitoso a noi e alla terra su cui viviamo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti